Buonasera a tutti, stiamo cominciando il primo incontro di questa sera. Vi avviso subito che in caso, noi crociamo le dita e speriamo che non ci sia bisogno, perché le previsioni non portavano minaccia di pioggia, però nel caso succedesse ci ripariamo nella chiesa madre che ha 50 metri qui, a sinistra la trovata subito sul correndo ovviamente, perché chi va piano si bagna, più gli altri. Vediamo perché c'è sempre l'imprevisto nell'ultima serata dei festival. Io invito a sedersi, intanto Lisa Gainsbourg, vi facciamo un applauso. E Orietta Almitone e Luciano De Francesco che dialogheranno con la nostra ospite, però intanto vi dico che come sapete è arrivato anche Mario Desiati che invito subito sul palco. Allora è l'ultima serata del nostro festival, è stato un percorso lunghissimo, abbiamo fatto tantissime cose con ospiti davvero eccezionali, siamo molto felici di questa prima esperienza qui a Presiccia Acquarica e speriamo di poter continuare anche il prossimo anno e ringrazio anche il pubblico che ci ha seguito e che appunto speriamo che continui a seguirci anche nelle prossime occasioni. I ringraziamenti li faremo alla fine. Volevo dire appunto, il programma di questa sera, intanto Mario è arrivato, il nostro direttore artistico. Abbiamo un programma abbastanza ricco, il primo incontro con Lisa Gainsbourg, seguirà l'incontro con Donatella di Pietrantonio e poi ci sarà un mini live acustico, veramente una chicca, un piccolo regalo di un nostro amico cantautore romano che però vive in Belgio e gira l'Europa con la sua musica, si chiama Giacomo Lariccia e poi sta piolendo. Ok, allora ripariamo nella Chiesa Madre. Grazie.